Infortunistica stradale matematica e fisica, terza edizione, ottobre 2015, 128 pagine, 18 euro. Autori della pubblicazione sono Gaetano Centamore e Deborah Leanza, che brevemente presentano il lavoro. Il testo di analisi matematica e fisica nasce dall'esigenza che abbiamo riscontrato qualche anno fa di far rivedere un po' ai corsisti quelle che erano le basi essenziali dell'analisi matematica e della fisica. Il testo nato da questa esperienza decennale si divide in due grossi capitoli. Nel primo si parla dell'analisi matematica, diciamo divisa in analisi matematica 1 e ceni di analisi matematica 2. Nella seconda parte del testo si parla essenzialmente di quella che è la fisica, la fisica classica. La fisica 1 per intenderci è a livello universitario. La parte che riguarda l'analisi matematica 1 tratta di quelle che sono le conoscenze basilari nel campo, ovvero si parte dalle equazioni algebriche, si parla di funzioni, di limite, di derivate, di integrali. Alla fine si parla anche di integrali doppi, di equazioni differenziali. Diciamo che è la parte che più riguarda l'analisi matematica 2, ma che è propedeutica a quelle che saranno poi le applicazioni fisiche nel campo della ricostruzione degli ingegneri stradali. Per quanto riguarda la parte della fisica si parte dalle basi. Si parla di vettori, si parla di equazioni vettoriali. Dopodiché si va ad entrare nel cuore della fisica classica, ovvero nei principi di conservazione dell'energia, della quantità di moto, del momento angolare, fino ad arrivare a quella che è basilare per un tecnico ricostruttore dell'incidente statale, ovvero l'analisi della fase d'urto, della fase post-urto, e di quelli che sono i modi di rototraslazione dei veicoli nelle fasi susseguenti ad una collisione. Nel testo si tratta anche di una parte della fisica che normalmente non viene trattata nei testi convenzionali di fisica, ovvero si parla di ES, di EBS, di PDOF, che sono dei concetti particolari, sempre che ricadono nell'ambito dello studio della fisica classica, ma che riguardano prettamente e sono mirati ai ricostruttori della dinamica degli incidenti stradali. Per concludere passo la parola alla dottoressa Leanza. Lo scopo del libro è proprio questo, partire dai concetti base per poter alla fine effettuare degli studi su incidenti stradali realmente accaduti e che potessero essere appunto esplicati e studiati nel modo migliore, al fine appunto di poter avere poi alla fine uno studio completo di qualcosa di realmente accaduto. per cui viene realizzato non solo comunque per chi ha bisogno di iniziare questa fase, ma anche per chi ha bisogno di un memorandum che gli possa durante il proprio lavoro ricordare in maniera semplificata, ripeto, ma non semplice, i concetti base della fisica e della matematica. Grazie a tutti!